Se ne è andato a 64 anni Sergio Pesavento, atleta italiano di spicco dal 1977 al 1988 e dirigente apprezzato per l'impegno e la passione dedicati allo sport. Era un uomo tutto di un pezzo, sapeva farsi benvolere dai ragazzi che in cui vedevano un faro capace di guidarli nei momenti di tensione prima delle gare. Era presidente della polisportiva di atletica leggera di Montecchio Precalcino e da qualche tempo era ricoverato all'ospedale San Bortolo dopo aver contratto il Covid. Pesavento era un ex atleta della lunga distanza, fatto parte del gruppo sportivo del Corpo Forestale dello Stato e una volta appesi gli scarpini al chiodo ne diventò allenatore. A dare la triste notizia il sito della Federazione Nazionale FIDAL che ricorda Pesavento con un comunicato da cui traspare tanta commozione e chi vuole ricordare le grandi qualità dell'uomo prima dell'atleta. Anche il sindaco di Sarcedo Luca Cortese ha voluto ricordare la figura dell'ex corridore azzurro con un post pubblicato su Facebook, una perdita che lascia un grande vuoto e che il primo cittadino esprime così. Mi hanno appena comunicato che Sergio è andato avanti. Sergio Pesavento, maestro di sport, ha dato tanto all'atletica e allo sport. Sergio è un grande signore, una persona per bene, mancherà la sua educazione e il suo impegno. I funerali si terranno martedì 8 marzo alle 15 nella chiesa parrocchiale di Levà di Montecchio Precalcino.